Per quanto riguarda il Covid, noi abbiamo una situazione che comincia ad essere preoccupante. Il dato di oggi della Campania vede 654 positivi, tasso di positivi del 5,23% rispetto ai tamponi che abbiamo fatto in Campania. Ora tenete conto che la Campania è la regione che fa, credo, più di ogni altra in Italia, tamponi molecolari, che sono gli unici tamponi davvero affidabili, altri sono tamponi molto poco affidabili. E tuttavia 650 positivi sono un dato che deve preoccupare. Ricorderete, lo abbiamo detto la scorsa settimana, che stiamo registrando, ormai da due settimane, una tendenza all'aumento dei positivi. Perché questo dato deve farci riflettere? Perché la metà di questi 654 sono persone non vaccinate. E quelli che vanno a finire in ospedale o in terapia intensiva sono quasi al 100% persone non vaccinate. Ma registriamo un altro 50% di questi positivi che sono vaccinati anche con doppia dose. Questo vuol dire che la capacità di protezione del vaccino si va esaurendo con il passare dei mesi. Questo vuol dire che dobbiamo prepararci ad una campagna di massa di vaccinazione con la terza dose.